Un collegamento pubblico e veloce con l'obiettivo di migliorare ed elevare l'accesso all'aeroporto per la fruizione del trasporto aereo da tutto il Salento e il sistema innovativo che la Regione Puglia ha scelto di sperimentare a Brindisi, finalizzando così i 40 milioni di euro di finanziamento stanziati dal Cipe per la realizzazione di un percorso preferenziale su strada ferrata, sul quale fa scorrere un metrobus con frequenza di partenza di 30 minuti, collegando quindi il Papola con l'ospedale Perrino e la stazione marittima. Si tratta di un'infrastruttura cruciale destinata ad accompagnare lo sviluppo ulteriore dell'aeroporto di Brindisi perché nella misura in cui consente di collegarlo con il sistema territoriale accompagna lo sviluppo del traffico. Si tratta di una struttura estremamente flessibile che avrà la possibilità di raggiungere due obiettivi. Il primo è di collegare l'aeroporto di Brindisi con il sistema ionico e quello salentino. Attraverso il collegamento con l'ospedale Perrino sarà possibile attraverso la rete ferroviaria raggiungere sia il Salento che l'area ionico Tarantina. La flessibilità consente di raggiungere anche un secondo obiettivo, di mettere a disposizione questo collegamento anche per la città di Brindisi, per gli indigeni. E anche questo dovrebbe servire ad integrare i flussi auspicabilmente turistici che gravitano attorno all'aeroporto di Brindisi anche per la città. Integrare la città all'interno di questi flussi significa candidarla a svolgere, a sviluppare le sue potenzialità turistiche. I termini per la realizzazione del progetto sono contenuti all'interno di un protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Comune di Brindisi e aeroporti di Puglia. Ogni ente avrà le sue competenze e modalità di intervento. L'idea progettuale avanzata dalla Regione prevede la creazione di una linea dedicata che collega la fermata ferroviaria dell'ospedale Perrino e l'aeroporto di Brindisi da integrare con i binari che intersichino le strade cittadine appositamente adeguate per l'utilizzo richiesto e che siano previste dall'amministrazione comunale raggiungendo e servendo la stazione centrale e la stazione marittima. Noi crediamo di poter stimare tempi assolutamente brevi perché il Ministro Barca ancora qualche giorno fa ci ha garantito che la procedura per l'erogazione delle risorse dei fondi FAS stanno subendo un'accelerazione piuttosto drastica il che significa che nel giro di due o tre mesi noi pensiamo che quelle risorse siano effettivamente disponibili l'accelerazione di quest'oggi serve ad arrivare proprio preparati alla effettiva disponibilità delle risorse arrivare preparati significa con un'idea progettuale e con un procedimento anche di redazione del progetto ormai avviato questo significherà anche bruciare tutte le tappe. Una innovazione che immagina una Brindisi diversa, moderna e a misura di cittadino. Grazie.